È un'estate ricca di appuntamenti, quella che aspetta i cittadini di Teggiano, ma anche tutti coloro che vorranno fare un tuffo nella tradizione e nella cultura tegianese. A confermarlo è il calendario ricco di appuntamenti estivi presentato ieri nello splendido complesso monumentale della Santissima Pietà, da numerose associazioni taggianesi che, lavorando insieme, sono riuscite a stilare un cartellone di manifestazioni che non lascerà soli i cittadini nemmeno per una sera. Ad aprire le danze sarà l'associazione Teggiano Antica, che il 30 e il 31 luglio in località Prato Perillo dà luogo alla rievocazione della pisatura e a una degustazione di piatti poveri della tradizione contadina. L'associazione Prometeo, invece, il 1 agosto nel centro storico organizza la gara canora La Notte delle Piccole Stelle, mentre il 2 agosto si terrà lo spettacolo dedicato alla moda Teggiano Profilo Moda. Il 5 agosto l'associazione PCS organizza nel centro storico di Teggiano la manifestazione Soundiano, evento musicale che prevede anche l'esibizione del gruppo Jovine. Le manifestazioni continuano nei giorni 5, 6, 7, 29 e 30 agosto con la Festa degli Antichi Sapori, organizzata nella frazione San Marco dall'associazione Camminare Insieme. Il 15 e il 16 agosto torna l'attesissimo Teggiano Jazz, organizzato dall'associazione Peppino Ruocco, nei luoghi più suggestivi del centro storico. Il 17, 18 e 19 agosto, invece, ancora un appuntamento con i piatti tradizionali della cucina tegianese, grazie alla manifestazione Alitiembi di Mammarella, organizzata a San Raffaele dall'associazione Allegra Brigata. E per finire, il 29 agosto si terrà il Palio delle Contrade, ovvero la tradizionale Corsa dei Ciucci, in località San Marco, organizzata dall'associazione Camminare Insieme.